Tranquillo Fregoni è gravemente handicappato dalla nascita. Già durante gli anni scolastici era per questo ragazzo, tifoso di calcio, dipingere il suo hobby preferito. Con la borsa di studio dell'Associazione degli Artisti che Dipingono con la Bocca e di Piedi, ha potuto frequentare l'Accademia d'Arte a Milano. Il titolo di professore ed il successo sono la ricompensa di tanti sforzi. Ho iniziato alle scuole elementari all'età di dieci anni, da quando ho cominciato ad entrare anche nella Ferranigun come artista. Inclusivamente olio, a volte anche acquarello diciamo. Siamo un po' del tutto, diciamo dalla fantasia, come in questo caso nelle costruzioni di questi fiori, altrimenti prendo spunto dalla realtà oppure anche da fotografie, prendo spunto il soggetto, diciamo. Quindi un po' di tutto. Dalla fantasia, come in questo caso nelle costruzioni di questi fiori, altrimenti prendo spunto dalla realtà oppure anche da fotografie, prendo spunto il soggetto, diciamo. Insomma, quindi un po' di tutto. Tranquillo è un pittore versatile, veloce e produttivo. Accanto alle sue proprie ed originali composizioni, ci sono fiori e paesaggi dipinti con grande livello artistico. Proprio il professor Fregoni evidenzia con intensità questi elementi naturali, nonostante il ristretto ambiente di casa e una vita limitata nei movimenti. Si, diciamo, va da conoscere. o amici, oppure gente che ha visto magari diverse mie mostre, no? E dopo un interessato soggetto che piaceva, veniva qui a vedere un po' la mia produzione, cosa facevo, una volta anche parlare un po' così, tanto da farmi conoscere più direttamente, no? Ciao! Grazie a tutti.